Sì, il Monza ha segnato tre gol nel primo tempo e ha messo K.O. la Triestina che nella ripresa ha tentato di reagire ma vanamente. Sono stati Marronaro, Colombo e Ronco gli artefici del successo della squadra monzese. Vediamo appunto il primo gol da Colombo, sulla sinistra nasce il primo gol appunto segnato da Ambu con una bella girata. La Triestina si smonta un po' il secondo minuto, Ronco realizza la seconda rete. Poi Colombo potrebbe segnare ancora ma tira fuori da buona posizione. E Ronco a fornire alla testa di Marronaro il pallone del 3 a 0. E' molto bella questa azione sulla sinistra di Ronco, il cross arriva Marronaro in corsa e segna. Nella ripresa c'è un assolo dello stesso Marronaro in area di rigore, dribbling e tiro di poco fuori. Infine il Triestino Stinfl tenta da lontano ma vanamente 3 a 0 linea a Valenti.